Allora, vi dicevo, ah, c'è questa cosa che mi ha raccontato mia figlia Rosanna, che è bellissima. Ve la voglio raccontarvi, un bambino sardo, molto bella la cosa. Non si offendano i sardi, per carità, io sono un meridionele come voi, voglio dire, amo tutta l'Italia perché mi stanno volendo bene un po' dappertutto, però devono essere spiritosi i sardi. Questo bambino sardo ha scritto la letterina a Natella, ha detto, caro Gesù Bambino, per Natale voglio una racchetta di panata e voglio il pallone di Gigi Riva. E non ha avuto risposta, ha riscritto l'altra lettera, caro Gesù Bambino, della prima lettera non ha avuto risposta, ti prego di scrivermi, io voglio la racchetta di panata e il pallone di Gigi Riva. Non ha avuto nessuna risposta, passano 20 giorni, altra lettera. Cara Madonna, se vuoi avere tuo figlio, mi devi mandare. E di risposta. Brava, una colina, una colina.